Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Pistoia B111 e tra Firenze Ovest e Firenze Peretola. In FIPILI possibili disagi per un incidente all'altezza di Firenze Scandici nella carreggiata in direzione mare. Per la canteristica in FIPILI questa notte per lavori alla pavimentazione segnaliamo la chiusura della carreggiata tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze in orario 22,6. Prevista una chiusura per lavori anche domani notte, 16 gennaio, questa volta tra Montelupo ed Empoli Est per chi viaggia in direzione mare. Con lo sguardo al traffico ferroviario informiamo che oggi la biglietteria di Certaldo è chiusa al pubblico. Prima di salutarci per il traffico aereo e il volo Pisa-Monaco delle 13, quest'oggi è cancellato. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!